perfetto buona serata quindi siamo qui su mozilla hubs in edu3d vi ringrazio tutti per la partecipazione comunque siamo sempre in 15 almeno su zoom che sono già una cifra interessante compresi quelli che poi si aspettano di vedere la registrazione premetto che questo corso di mozilla hubs e all'interno diciamo di tutti i moduli che abbiamo fatto con edu3d nel tentativo di aiutarvi a lavorare con i mondi virtuali a usare tutto quanto più possibile per poterli usare anche come strumento di dad e in particolare mozilla hubs si presta perché è un sistema semplicissimo si possono costruire delle stanze e fare entrare delle persone in pochissimi minuti quindi cioè praticamente se uno vuole costruire un incontro virtuale una classe virtuale basta che entra in mozilla hubs eventualmente si deve fare la registrazione su mozilla non è obbligatorissimo ma è consigliabile dopodiché crea una stanza e ci può mettere degli oggetti tra l'altro vedo che molti di voi mozilla hub sono già degli avatar molto complessi almeno per mozilla hubs ci sono già una serie di animazioni vedete che è una cosa abbastanza potente ma noi abbiamo già fatto alcune lezioni il mese scorso dove insegnavamo come muoversi come costruire delle stanze da zero quello che facciamo stasera e tra l'altro in questo lavoro mi aiuteranno giovanna e maria giovanna giannone maria sbro che dopo dopo di me diciamo faranno proprio una sorta di faranno vedere quello che è spok e l'argomento di stasera appunto è spok e cos'è spok è spok è un sistema che consente di costruire queste stanze in mozilla la hubs in modo tale che siano vuol dire che rimangano e possano essere utilizzate anche per altri possono essere condivise con tutta la community non tanto la stanza in quanto punto dove si entra ma la stanza in quanto modello di ambiente tipo tipo se uno di voi costruisce una stanza con una scuola la costruisce e poi la mette a disposizione al anche ad altri se vuole cioè non è obbligatoria può anche farla privata però nella logica open source che noi anche nel 3d cerchiamo spesso di appoggiare se si fa una cosa carina è bello condividerla ed è anche utile no? però per capire bene spok che è questo sistema che permette di progettare le stanze e come vedremo in realtà più che progettare una stanza si progetta una scena dobbiamo capire appunto la differenza fra stanza e scena allora quando entriamo in una stanza ad esempio la stanza nostra che è questa qui di mozilla di edu3d vedete che c'è un indirizzo in cima che è l'indirizzo della stanza in questo caso è hubsmozilla.com byjw4f5 quello è l'indirizzo della stanza ma in realtà questa stanza se chi ha creato la stanza può vedere come è costruita questa stanza quindi c'è un room credo che sia una room and scene info quindi informazione sulla stanza e sulla scena quindi cosa vuol dire perché si parla di stanza e si parla di scena? perché la stanza è quella che voi state vivendo adesso ed è un qualche cosa di vivo in cui entrano delle persone mentre invece la scena è sostanzialmente il palcoscenico insomma la struttura della stanza che è stata progettata in spok appunto che è questo sistema di progettazione che vi facciamo vedere ora tra le altre cose questo è strutturato in modo tale da aiutare le persone anche a mantenere un pochino di license cioè di possesso della proprietà intellettuale perché voi sapete che l'open source non è una cosa in cui tutti regalano senza avere assolutamente nulla in cambio cioè non è un posto dove si regala è un posto dove chi fa qualche cosa può mettere a disposizione degli altri e in qualche misura si aspetta che gli altri in qualche modo lo riconoscano che lui ha fatto questa cosa quindi ad esempio questa aula Edu3D che è stata costruita da Michelangelo che ringrazio perché tra l'altro ci sta aiutando moltissimo a organizzare questi corsi in questi giorni, questi mesi oltre ovviamente a fare la build di tutte le cose sia in OpenSim che qua in Mozilla Hubs insomma dove è necessario lui per costruire questa stanza è partito da alcune cose ad esempio in questo caso c'è il rubber duck che è un oggetto che è stato rubber duck vuol dire un'anatra di gomma che è stata presa da Sketchfab e ha usato anche un Japanese lamp che ha preso anche da Sketchfab dopodiché suppongo che tutte le altre cose che ha messo dentro questa scena le ha prese praticamente da le ha costruite lui cioè le ha costruite lui in Blender perché lui è bravissimo a usare Blender ora nel momento in cui questa scena effettivamente la vado a cliccare mi compare un indirizzo hoobs.mozilla.com.sins e c'è una scena allora la scena che in questo caso è praticamente arriva fino a qua c'è un indirizzo simile alle stanze ma c'è scenes, scenes anziché prima abbiamo visto che c'era semplicemente il codice quindi voi vi trovate alcune cose che hanno la dicitura scenes e alcune cose che non ce l'hanno ok chi è che c'ha vediamo un po' se mutiamo qua qualcuno è entrato, sì era entrato qualcuno in stanza quindi non so se vi è chiaro cosa che c'è questa differenza e qual è la differenza andando avanti un pochetto le scene sono qualche cosa che quando voi vi trovate su una scena compare la possibilità di creare una stanza quindi se qualcuno vi dà l'indirizzo di una scena voi potete creare direttamente una stanza con quella scena oppure andare a fare un remix di quella scena cosa vuol dire remix? vuol dire potete modificarla ecco la capacità di poter modificare delle cose fatte da altri è una delle caratteristiche più notevoli dell'open source ed è veramente potente perché normalmente quando voi comprate qualcosa di solito vi danno delle cose fatte da altri su cui è molto difficile costruire altre cose perché o in realtà non potete ve lo vietano o perché se lo fate poi vi chiedono dei soldi tutto è legato all'economia tutto è legato al fatto che qualcuno ci guadagna invece con le scene è possibile costruire una sorta di chiamiamolo marketplace ma per dire una fiera di cose fatte da altri che possono essere in questo caso proprio delle scene cioè delle stanze intere che possono essere usate per fare dei progetti già pronti questo concetto del remix è un concetto che viene molto usato anche nel coding chi di voi ha fatto adesso mi sfugge sempre il nome di quel pacchetto che si usa col gattino qualcuno di voi se lo ricorda come si chiama quello che insegna il codice Scratch allora Scratch è diventato anche famoso ma non è l'unico perché ha dato la possibilità se voi andate su Scratch un po' che non c'entro quindi non ci giurerei di riuscire però c'è proprio un marketplace dove si può esplorare e si può costruire quello che anche queste sono delle specie di giochi dei piccoli videogame ma anche dei tool didattici spesso fatti per bambini quasi tutti se non tutti è possibile fare un remix di questi oggetti per analizzarli studiarli per imparare in pratica il remix non serve solo per copiare è stato costruito e progettato anche per imparare come sono fatti questi oggetti che magari sono troppo complesse all'inizio per voi ma poi man mano uno magari prende uno di questi progetti e li usa si sta impiegando già troppo quindi non direi che lasciamo perdere quindi quello che succede quando fate un remix oppure quando create un progetto dal nuovo è di entrare in Spoke allora io non entro nel merito di Spoke perché ve lo spiegheranno adesso cioè di come si usa come funziona e come si lavora però vedete che quando siete in Spoke siete all'interno di un sistema che è simile a Blender ma è un pochino più semplice nel senso che ci sono degli oggetti questi oggetti possono essere selezionati possono essere spostati nella scena e si possono creare una serie di informazioni cioè di modelli si può mettere il cielo si può mettere insomma tutti questi oggetti e si può anche prendere tutti questi oggetti da da dei marketplace come Sketchfab Google Poli e via discorrendo che adesso poi vi descriveranno Giovanna e Maria l'interfaccia di Hubs pur essendo un po' più semplice rispetto a Blender è comunque un'interfaccia che va un pochino studiata quindi ricordatevi che di prendere appunti quando adesso ve lo spiegheranno e stasera vi spiegheremo le cose più semplici di questa interfaccia e vi si spiegherà anche come fare a pubblicare una scena costruita con Spoke attraverso questo tastino che è il Publish to Hubs che vuol dire viene pubblicata diventa una scena e poi dalla scena si costruisce la stanza questo doppio passaggio che per alcuni di voi potrebbe apparire una cosa eccessiva cioè il fatto che sarebbe bello poter dire costruisco la stanza e fine cioè costruisco la mia stanza la pubblico e questa diventa la mia stanza ma passando attraverso il concetto di scena si riesce a fare in modo tale che la stanza possa cioè che la scena che state progettando possa essere ricreata anche cento volte anche venti volte duemila volte e questo è una cosa fondamentale e soprattutto se per caso la scena da cui partono n stanze ha un errore per esempio non so per dire c'è una scritta messa male un paperotto del colore sbagliato oppure qualche cosa che dovrebbe essere qualcosa su cui dovete scontrarvi non lo è insomma un sacco di cose nel momento in cui chi ha creato la scena la modifica e la ripubblica tutte le stanze che originano da quella scena vengono automaticamente aggiornate il che è una cosa potentissima e non si potrebbe fare se non ci fosse questo passaggio intermedio quindi tornando alla definizione dei concetti che su cui stiamo lavorando quando entrerete in spoke cliccate allora potete anche creare una stanza da zero però notate che anche quando create una stanza da zero vi chiede di partire da una scena di partenza però se voi entrate direttamente in spoke qui avete la possibilità andando ancora in get started di definire quelli che lui chiama progetti questi progetti sono le vostre scene quindi io ad esempio in questo momento ho fatto una scena che si chiama empty museum ho fatto un remix di alcune scene che ho trovato in giro e sono tutte scene che adesso man mano che poi ho bisogno se voglio posso rientrare quindi una volta salvate pubblicate le posso modificare e diventano diciamo qualche cosa a mia disposizione sempre presente tanto non sono salvate sul vostro computer queste scene sono salvate su mozilla quindi se cambiate computer ve le trovate comunque a condizione ovviamente che voi vi siate registrati quindi qui sono fatto il login e c'è tutto quel procedimento di login che peraltro non è neanche complicato che consente di sapere per ogni persona quali sono i progetti quali sono gli avatar che ha indossato e così via allora mi fermo un attimo giusto per vedere se qualcuno di voi ha dei dubbi domande prima di passare poi il microfono e lo schermo a Giovanna e Maria non sento osservazione comunque tutto quello che ho detto ditemi anche solo in chat un sì o un no insomma se quello che vi ho detto vi sembra chiaro o se c'è qualcosa che qualche dubbio vi ricordo comunque che Mozilla è un po' un emblema dell'open source perché Mozilla è la società insomma la fondazione che ha costruito Firefox che è il browser che io non uso peraltro ma che è diventato proprio uno simbolo dell'open source quindi Mozilla sono proprio loro sono quelli che hanno fatto Firefox le scene che fate qua non le potete trasferire in open sim in generale no però c'è una possibilità di esportarla in formato GLB che poi da blender potrebbero anche essere portate su open sim anche se non lo raccomanderei tanto è un po' complicato e soprattutto certe cose come vedrete come ad esempio la possibilità di mettere dei film non esiste o quantomeno si fa in modo molto diverso su open sim e quindi non potete conservare un sacco di cose quindi diciamo che la risposta breve è no la risposta un po' più lunga e con molte attenzioni avvertenze eccetera probabilmente si può anche portare qualcosa da qua verso open sim quindi io allora adesso vediamo un po' se riesco tra l'altro ho messo già co-ospite Giovanna Giannone e Maria adesso condivido all'inizio Maria Maria essendo co-ospite potreste probabilmente condividere da soli giusto? penso di sì no ci devi dare il permesso allora cominciamo con Maria e diamo chiedi di avviare video è questo? sì ma abbiamo il permesso deve smettere di condividere deve interrompere la condivisione allora interrompo e andate voi fatto provate a dirmi sì vai Mara eccoci allora un attimo suono cerco di capire come togliere questa barata qua allora come facciamo a passare innanzitutto come facciamo a passare a Spock se andiamo nella prima pagina di Mozilla Ops scusate anche con il motore di ricerca andiamo su Mozilla Apps nel momento in cui entriamo non stiamo partendo da un remix stiamo partendo sull'entrare Spock e partire da zero qui sopra in alto oltre che Home Apps Cloud Spock Doc eccetera eccetera e la community c'è qui Spock se io clicco su Spock si apre questa finestra scusate e la prima cosa che posso fare è get started quindi inizia a creare a questo punto ci sono questi sono dei progetti che io degli esempi che abbiamo iniziato a fare vado su New Project e si aprono delle scene che sono state alcune già create dal team di Apps altre che sono state messe in condivisione da altre persone che le hanno create e poi le hanno messe a disposizione di tutti per la condivisione supponiamo di aprirne una ad esempio questa e vediamo com'è fatta vediamo com'è fatta e vediamo com'è fatto l'interfaccia Salazar ha già spiegato qualcosa però adesso andiamo più nel particolare innanzitutto vediamo che l'interfaccia così come vi diceva Sal è molto simile anche come colori a quella di Unity e anche un po' a quella di Blender anche se è molto lontana allora innanzitutto vediamo che c'è una divisione abbiamo qui sopra una barra dove abbiamo il menu che mi permette di per esempio di salvare il progetto di pubblicarlo di esportarlo così come vi diceva prima si può esportare anche in GLB e quindi un menu molto semplice dove non ci sono tante tante funzionalità poi abbiamo questo che è il short short non mi rirà quindi l'abbreviazione tastiera scusate è stata una giornata pienissima e intensa quindi è la t e mi permette di spostare gli oggetti vedete che esce fuori qualcosa molto simile a Gizmo ora poi Giovanna vi farà vedere bene come si spostano gli oggetti o come si creano poi qui c'è la rotazione con gli stessi simboli che utilizziamo già sia in Blender ma anche in OpenSim quindi se per esempio io clicco sull'albero vedete e io adesso sono su Rotate dovrei poter ruotare l'albero non so per quale motivo in questo momento sì adesso ruota tutto e se mi metto qui dovrei spostarlo ok e vediamo che contemporaneamente adesso vedremo avviene qualcosa anche qui sulla destra quindi Rotate mentre questa è la scalatura quindi la scalatura che mi permette di far aumentare o diminuire le dimensioni del mio oggetto alcune cose servono per la selezione quindi selezionare in base al mondo o selezionare in base all'oggetto quindi ho una praticamente una località del del mio movimento quindi il mio movimento diventa locale invece che legato al mondo e quindi globale e poi una cosa molto importante che è lo snap che mi permette di muovere gli oggetti secondo queste unità di misura che sono che possiamo stabilire e possiamo modificare quindi se io devo fare dei movimenti con una precisione maggiore diminuisco l'unità di misura in modo tale da potermi muovere con dei piccoli facendo dei piccoli passi quindi facendo degli spostamenti che siano effettivamente molto piccoli e non esagerati quali sono per esempio questi da quattro metri o due metri eccetera questa serve anch'essa serve a definire un'unità di misura dell'ampiezza dell'angolo per poter fare gli spostamenti questo è per poter vedere o nascondere la griglia e la griglia può anche essere sollevata l'importanza della griglia è quella che gli oggetti quando compaiono compaiono sempre legati all'altezza in cui si trova la griglia cos'altro c'è da vedere la parte di destra quindi vi dicevo abbiamo una suddivisione in tre o quattro parti quattro parti per l'esattezza quindi abbiamo questa barra superiore poi abbiamo una gerarchia facendo doppio clic su ciascuno degli oggetti mi porta agli oggetti al punto dove si trovano questi oggetti che sono stati caricati poi Giovanna mi dirà a che cosa serve qualcuno di questi quindi basta fare per esempio doppio clic vado direttamente all'oggetto e posso poi fare delle modifiche a questo oggetto quindi o spostarlo o ruotarlo o ingrandirlo quindi scalarlo la parte questa zona qui dove c'è scritto properties quindi le proprietà mi permettono di andare a visualizzare le proprietà di ogni singolo oggetto per esempio vedete che quest'albero è un GLB quindi potrebbe anche essere stato fatto con blender e poi esportato in GLB nel transform vediamo la posizione in cui si trova l'oggetto quindi questo è proprio messo al centro degli assi nei nostri assi la rotazione in questo momento non è stato rotato e la scalatura poco fa io ho aumentato quindi quando ho cliccato qui su scale ho aumentato le dimensioni e guardate che man mano che io aumento le dimensioni con lo scale cambiano cambiano anche i numeri che si trovano qui allo stesso modo se io mi metto qui sul translate che sarebbe il movimento anche qui possiamo vedere che sulla destra nella zona delle proprietà si modificano i parametri legati alla posizione in cui si trova l'oggetto qua sotto ci sono delle altre proprietà che cambiano in base alla tipologia di oggetto che è stato selezionato se per esempio seleziono un frame vedete che le proprietà sono veramente poche non c'è quasi nulla se seleziono un oggetto GLB invece posso andare una cosa importantissima posso caricarlo anche andando a inserire un link su questo ci torneremo dopo l'ultima cosa un paio di cose da dirvi allora nel mio praticamente quando io mi devo muovere se non mi serve utilizzare tantissimo la parte di destra posso ridurla in modo tale da avere un'anteprima della scena più ampia così come posso anche diminuire ancora la parte sotto fino addirittura quasi a farla sparire quindi dipende dalla parte su cui io devo lavorare posso modificare l'ampiezza della scena come ci si muove allora ci si muove o con il tasto sinistro quindi tenendo premuto il tasto sinistro mi permette di eseguire una rotazione oppure premendo il tasto destro posso volare e quindi muovermi con W così come ci muovevamo poco fa all'interno della stanza di Mozilla quindi con la A vado a sinistra con la D vado a destra con la W vado avanti tenendo premuto sempre il tasto destro del mouse e tenendolo schiacciato e ruotando il mouse posso fare una rotazione con la S vado indietro quindi queste sono le caratteristiche principali della finestra delle varie finestre che troviamo all'interno di Spock e anche le modalità che mi permettono di muovermi all'interno di questo mondo che serve a costruire le scene non a fruirne ma mi permette così come vi ha spiegato benissimo Salazar prima di me mi permette di aggiungere degli elementi a una scena in modo tale poi da fruirne Giovanna ti passo la parola Sì ok Maria Allora sono in condivisione? Sì sono in condivisione io sto riprendendo la stessa stanza che aveva prima Maria e vi faccio quindi vediamo ulteriormente come ci possiamo muovere sto navigando velocemente se per esempio clicco sullo shift aumento la velocità e con i tasti W A S D io mi posso spostare una cosa molto comoda che conviene utilizzare sono altri due tasti che sono il Q il tasto Q e il tasto R che mi consentono di fare una rotazione a sinistra e una rotazione a destra e questo può essere conveniente soprattutto quando dobbiamo sistemare alcuni oggetti come per esempio nel caso dei frame che vedremo la prossima volta che sono questi grandi schermi nel caso specifico di questa stanza e che mi consentono di poter incollare dei video oppure di incollare delle immagini l'utilizzo del tasto Q e del tasto E diventa quasi necessario e comunque ci fa risparmiare parecchio tempo Maria vi ha fatto vedere sulla barra del menu qui in alto come si sposta un oggetto come si ruota un oggetto e come si può scalare e io vi sottolineo che oltre a cliccare sui tre tasti c'è la possibilità di accedere velocemente a queste tre tipologie di movimento utilizzando la tastiera in particolar modo il tasto T di translate per la spostamento rotate R per la rotazione e Y se non per quanto riguarda invece il potere scalare quindi diminuire aumentare eventualmente un oggetto se andiamo sul tasto cosiddetto in gergo hamburger quindi che sarebbe questo in alto a sinistra con i tre trattini orizzontali possiamo attivare anche la modalità di anteprima utilizzando questo comando in questo caso io la disabilito e quindi su questa barra dello strumento non ci sarà nulla se invece adesso la vado a cliccare ecco che mi compare la possibilità di vedere l'anteprima nella stanza infatti adesso sono scomparsi tutti gli oggetti che sono presenti all'interno della stanza perché mi sta dando semplicemente un'anteprima adesso li faccio ricomparire vediamo quali sono in generale gli oggetti fondamentali di una stanza noi abbiamo scelto questa che è molto spartana proprio per renderci conto di quello che effettivamente può servire se io volessi fare una stanza da zero sicuramente ci vuole uno skybox lo skybox in questo caso è poco visibile ma sarebbe questa sorta di cielo che abbraccia questa stanza e che ha già di suo un sole che illumina quindi una sorta di luce diffusa insieme allo skybox e quindi lo skybox per esempio è un elemento che possiamo inserire all'interno della stanza una sola volta infatti se io adesso dovessi cercare all'interno della biblioteca che è presente dove sono tutti gli oggetti negli elements sono presenti tutti gli oggetti che io posso inserire nella scena non troverò lo skybox così come non troverò nemmeno il pavimento ovvero il floor plane che serve appunto per poter per permettermi appunto di camminare quindi tra gli elementi importanti che possono servire nella costruzione di una stanza ci sono lo skybox e il floor plane ma anche la directional light adesso io ci clicco e quindi in questo momento in questa stanza la mia luce direzionale è posizionata all'interno dell'ambiente cos'altro c'è in una stanza che ci può servire sono gli spow point ora mi rimprovereranno sicuramente perché non so pronunciarli bene voi fate finta che io li ho pronunciati benissimo e vediamo un po' che cosa sono in pratica questi sono una sorta di ingresso per tutti gli utenti cioè se questa stanza può ospitare come dice Mozilla Hub se fino a 40 utenti questi utenti gli utenti quando entrano in una in una stanza entrano solitamente possono entrare in contemporanea e quindi anziché entrare tutti in un unico punto è più agevole avere la possibilità di diversi ingressi ecco che ci viene in aiuto lo spoil point cioè proprio una sorta di ingresso randomizzato perché non abbiamo la possibilità di scegliere di entrare da una parte oppure dall'altro che vengono distribuiti a nostro piacimento all'interno del nostro ambiente in quasi tutte le stanze che già esistevano su hubs che sono degli ambienti creati dai team o come diceva prima Salazar degli ambienti che invece sono rimessati e messi a disposizione degli utenti sono stati introdotti questi media frame media frame è un argomento che poi andremo a approfondire la prossima volta sono quella quei famosi rettangoli che ci consentono di inserire delle immagini o dei video e dei video al loro interno e che sostanzialmente almeno in una fase iniziale potrebbero non essere elementi fondamentali quindi per ricapitolare elementi fondamentali sono la luce direzionale gli spoil point che sarebbero gli ingressi un piano su cui camminare e quindi un cielo tutto il resto diciamo che può essere anche non necessario riguardo invece alla science preview che cos'è quindi il sistema se io ci clicco sopra due volte mi fa vedere che c'è una videocamera e questa videocamera se io vado ad analizzare al di sotto quindi queste proprietà legate alla videocamera mi danno la possibilità di inizializzare la visualizzazione della stanza che significa io mi vado a impostare la mia vista quindi cliccando con la scena con la videocamera in evidenza quando sono soddisfatta vado a cliccare su set from viewport e quindi questo sarà il mio punto di prima visualizzazione all'interno della stanza quando poi io entrerò nella mia stanza attraverso apps bene e queste sono le cose diciamo principali che in qualche modo si devono conoscere oggi scusa Laura chiedeva quanti spawn point è opportuno avere allora in questa stanza che è molto molto semplice già ce ne sono diversi forse anche sei o sette non ha importanza e va considerato è una scelta progettuale se tu hai un ambiente molto grande e allora potrebbe essere più gradevole avere gli utenti sparsi in tutto l'ambiente in un ambiente più piccolo considerando sempre il numero degli utenti che devono accedere 4-5 poi i ponte vanno bene considerate anche un'altra cosa che noi in realtà finora non abbiamo mai utilizzato 40 utenti tutta una volta abbiamo fatto una prova ma più di 27 non siamo riusciti poi molti vengono spostati buttati fuori e spostati nella lobby diciamo che 4-5 spoi ponte vanno bene per poter creare dei piccoli gruppetti di accesso di ingresso e adesso se io posso ingrandire diciamo la parte centrale per avere una migliore e immediata visualizzazione della scena vi porto un attimo a vedere questo menu che ho qui a portata di mano che in qualche modo mi riporta a tutte le possibili selezioni che noi possiamo fare all'interno della stanza mi riporta al fly perché significa appunto volare oppure col tasto sinistro che sarebbe questo LMB quindi mi porta ad orbitare all'interno della stanza Q mi ruota a sinistra E mi ruota a destra G mi fa spostare ed esco invece esco dalla selezione questo menu può essere anche interessante quando vado a lavorare all'interno della stanza così come io posso ingrandire la visuale la posso anche diminuire e in questo caso è quello che farò per mettere maggiormente a fuoco tutta la parte che c'è sottostante che la parte diciamo di inserimento di oggetti e di eventuali elementi che possono essere già presenti nella biblioteca di Spock ma anche vedremo posso andare a estrapolare da altre piattaforme in generale tutto quello che ci può servire lo troviamo all'interno di Elements e abbiamo già alcune icone che possono essere riconosciute perché sono abbastanza familiari ne abbiamo appena parlato come la Directional Light ma ne abbiamo abbiamo anche altri tipi di luci abbiamo un per esempio questa che è uno spotlight cioè una una luce che riprende qualcosa molto più da vicino possiamo inserire degli audio possiamo inserire delle immagini possiamo inserire gli spoy point che abbiamo visto essere appunto i punti d'ingresso e la prossima volta invece vedremo anche questi way point che verranno poi utilizzati per fare una sorta di teletrasport abbiamo anche la possibilità di inserire l'acqua quindi ci sono diversi oggetti ed elementi che posso inserire all'interno della scena faccio un esempio per esempio inserisco uno spotlight eccolo qua l'ho già inserito e poi al solito posso aspettate che diminisco un po' se non riesco a lavorare posso a questo punto poi attraverso i soliti tasti poter decidere di posizionarlo dove ritengo opportuno ruotarlo scalarlo oppure ingrandirlo rimpicciolirlo tra il menu che abbiamo qui sottostante poi farò vedere come si fa a pubblicare la scena andiamo a vedere un'altra parte che è quella dei my assets cioè delle cose che io voglio sono ho inserito all'interno del mio spot e quindi sono delle mie oggetti che rimangono conservati all'interno dello spot con il mio account io ho inserito delle immagini a 360 gradi perché per esempio le immagini a 360 gradi non in questo caso non in questa scena ma in una scena dove si vede anche l'esterno possono essere modificate quindi personalizzate a piacimento basta semplicemente inserire l'immagine poi col tasto destro copiare l'URL dell'immagine a 360 gradi e andarla ad inserire al posto dell'URL dell'immagine che c'è nella scena e cos'altro possiamo andare a vedere tutto ciò che riguarda l'architettura e quindi in generale si trova in architecture kit e qui abbiamo la possibilità per esempio di inserire delle laste di pavimento che sono 4x4 e che posso duplicare vediamo se si inseriscono io oggi ho un po' il sistema un po' lento con il control D ditemi se sto sbagliando per duplicare il pavimento e control D mi pare non me lo ricordo o è shift D allora inserisco un pavimento ok no non l'ho inserito ok inseriamo benissimo ora io questo pavimento lo sposto e poi vorrei duplicarlo non mi ricordo se è shift D no o se è control D con una delle due è control Giovanna ok sì sì infatti adesso ce ne ho due e quindi posso creare una serie di matrici di pavimento che sono control D aspettate voglio fare la prova ecco vedete che stanno assumendo una colorazione lontano un po' grigia quindi io sto inserendo queste lastre di pavimento e posso fare una griglia a mio piacere altri elementi interessanti che posso andare a considerare beh c'è di tutto ci sono delle pareti forate con delle finestre ci sono per esempio delle porte dei muri ci sono delle scale che sono interessanti e che chiaramente io posso inserire vediamo provo a inserire una scala ecco questa eccola qua adesso ci lavoro sopra e su questa scala io poi posso anche ruotarla posso duplicarla come sto facendo nello specifico e posso per esempio inserire arredare un 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 ambiente tutto quello che io vado ad inserire all'interno della scena poi rimarrà una volta che io che la mia scena è stata pubblicata e non avrò più la possibilità di spostare e modificarlo a meno che io non riprenda nuovamente la scena con Spock e non mi metta a lavorare con Spock come diceva Sal c'è la possibilità che poi le modifiche vengano di volta in volta in automatico gestite attraverso la scena chiamiamola la scena madre e che poi vengono replicate in tutte quelle scene che sono nate dalla scena matrice e quindi questo è una cosa molto potente perché basta modificare la scena madre per poter avere tutte le scene dalla quale sono nate modificate a loro volta tra gli oggetti da inserire poi a questo punto non mi dilungo più vi faccio vedere come si fa a pubblicare una scena con Spock c'è la possibilità oltre di avere una serie di rocce abbastanza verosimili che possono essere inserite nell'ambiente la possibilità di andare a acquisire degli oggetti da inserire nella stanza e anche oggetti animati da Sketchfab o da Google Poli e qua purtroppo vi devo dare una notizia poco piacevole molto probabilmente a partire dal mese di luglio Google Poli non sarà più attivo quindi verrà assolutamente verrà chiuso così come altre applicazioni Google come esplorazioni e anche Tour Builder tutte queste applicazioni non verranno più utilizzate vengono dismesse da Google compreso la biblioteca che abbiamo di oggetti su Google Poli e purtroppo questa sarà una brutta perdita e voglio posso interrompere una cosa assolutamente sì c'è una raccolta di firme adesso una petizione su Change.org che io ho pubblicato in Facebook anche che chiede a Google se riesce a farlo diventare open source il Google Poli quindi la prendiamo secondo me ha senso far capire che è una cosa interessante io l'ho usata abbastanza secondo me per tutto ciò che è low poly come stai facendo vedere tu adesso è una bibbia cioè proprio una cosa fondamentale sì l'abbiamo utilizzata lo continuiamo a utilizzare fra l'altro quella di di Google presenta degli oggetti che sono anche abbastanza leggeri e quindi è più appetibile ancora di Sketchfab io per esempio ho inserito qua l'acquario giusto adesso perché poi vedremo come ce lo riportiamo nella stanza e quindi ho la possibilità di crearmi il mio arredamento questo arredamento che poi io porterò su Abbs rimane intonso cioè non potrò più poi gestire all'interno di Abbs gli oggetti che sto inserendo e quindi la diciamo quale sarebbe l'idea l'idea sarebbe quella di creare una scena arredarla con Spock e poi invece utilizzarla per un inserimento di di link oppure di presentazioni o come abbiamo fatto con il museo virtuale con dei dipinti o con degli oggetti invece su Abbs Mozilla in modo tale da avere una scena base sulla quale poi i ragazzi o noi stessi possiamo andare a lavorare vediamo adesso come pubblicare la scena io solitamente prima conservo la scena quindi salvo il progetto magari gli do un nome diverso magari perché mi dà la possibilità di ricordarmi qual è il progetto su cui sto lavorando e poi il tasto che mi consente la pubblicazione è il publish to Abbs salvo questo progetto non me l'ha pubblicato sì ok se voglio dare la possibilità di remixare la stanza secondo quella teoria del remix tipico che diceva prima Scratch che poi è l'anima di Abbs perché in pratica qui la condivisione più che il lavoriamo tutti contemporaneamente sullo stesso progetto l'idea sarebbe quella io ti do il mio progetto tu lo remix lo migliori aggiungi qualcosa e questo progetto piano piano diventa quasi una struttura d'albero che va crescendo e si va migliorando quindi in questo caso io posso dare il remix se ci sono delle attribuzioni vanno inserite e quindi anche va inserita la tipologia di licenza utilizzata e a questo punto faccio save publish che cosa succede allora qui mi dà il sistema una serie di liste di cose che sono presenti all'interno della stanza siamo stati fortunatissimi perché non ci sono colorazioni di giallo di rosso che in qualche modo sono minacciose perché ci stanno dicendo che magari l'oggetto è molto pesante e potrebbe non essere riportato nella scena cosa che finora in realtà a me non è mai successo adesso a questo punto posso pubblicarla siamo in attesa ci mi impiega un po' non so perché ecco fatto ora posso andare a vedere la mia scena e quindi sto per entrare attraverso pubs bozilla ecco quindi mi dà la possibilità di come abbiamo fatto prima di editarla in spock oppure a questo punto di accedere all'interno della mia stanza io già vedo qualcosa che sfarfalla che sarebbe il pavimento adesso io mi trovo aspettate che devo fare i conti anche con il mio antivirus ecco che mi trovo gli oggetti che ho inserito questo sfarfallio che è causato dalle piastre del pavimento che ho inserito le scale sovrapposte messe in un modo veramente orribile un pessimo architetto sono e dire che lo sono veramente e poi c'è qui l'acquario che abbiamo inserito ecco adesso io chiedo aiuto a Sal chiederei a Sal di spiegare a questo punto come facciamo ad inserire qui lo slash science se vogliamo cambiare modificare una scena e rinserirla lo dici tu questo Sal se ci sei batti un colpo sì avevo il telefono ho il microfono spento ci sono va bene allora io stacco la condivisione questo lo dici tu e poi credo che per me ho finito sì vuoi che ti lascio la condivisione o la stacco stacco la condivisione che è la ok tanto vabbè la vediamo in maniera molto abbastanza veloce quando siete il creatore lo può fare cioè non lo può fare la persona normale perché è una cosa abbastanza invasiva cioè una volta che le persone sono entrate ad esempio in questo momento qui ci sono undici persone in questa stanza e se io cambiassi la scena non stai non mi entendo ok dividiamo lo schermo vedete? sì sì adesso sì ok scusate allora adesso qui abbiamo questa stanza dove siete voi tutti dicevo quello che diceva Giovanna è la possibilità di rinnovare aggiornare o cambiare totalmente la scena su cui è appoggiata la stanza quindi la stanza viene vista come proprio il momento in cui le persone sono collegate la scena è quello che c'è dentro e per cambiarlo ci sono due modi allora uno che è un pochino più semplice ma è più immediato se volete e qua potete dire choose a scene quindi se voi scegli una scena allora lui fa vedere le scene potete cambiare la scena che c'è adesso con una scena che è già fatta e quindi cambiarla oppure ancora andare a cercare le vostre scene vostre quindi potete cambiarla con questa io adesso non lo faccio qua perché sennò si verrebbe a perdere la scena di Michelangelo però nel momento in cui si clicca questo tutti voi vi restate trasformati trasferiti in quella scena ok se voi per caso avete l'indirizzo di una scena che non è in questo elenco magari di un altro perché da qui è vero che potete cercare ad esempio se io cerco football si possono cercare delle scene ma ovviamente non si trovano tutte quindi magari un vostro collega un vostro amico un vostro studente vi ha detto che ha creato una scena con Spoke quando si pubblica la scena con Spoke compare a un certo punto non tanto questo ma ad esempio se noi creassi anzi faccio che farlo quindi faccio un nuovo progetto questo nuovo progetto per dire faccio pudillero diorama questo prima che ho trovato non mai visto prima questa scena questa scena c'ha una sua scena c'è un suo nome ma nel momento in cui la remixo cambia il nome della scena questa qui è tra l'altro è una cosa anche abbastanza raffinata non so se la vedete ecco perché ce l'ho impiegato tanto quindi vi ricordo che navigate all'interno della scena per guardarla eccetera eccetera se voi la modificate ad esempio ci mettete a un certo punto qui un da google poli il solito acquario quindi praticamente prendiamo fish tanks e lo mettiamo allora sono già perso fish tanks tra l'altro fa vedere anche una specie di preview di questa cosa qua l'hanno fatto ultimamente questo qui l'acquario lo rezzate e lo cambiate di dimensione quindi la scalatura S eventualmente ecco lo scalate e quindi mettete 4 per farlo un po' più grosso fish tank adesso un po' più lontano è venuto comunque nel momento in cui avete cambiato la scena e voi fate il publish aggiungendo cancellando quello che è project name crudigliero diorama remix fate save project quindi viene salvato il progetto e poi viene prodotto questa scena eventualmente con remix nel momento in cui fate il save and publish si fa l'export della scena e viene creato e qui tra l'altro vedete che questo invece è giallo perché è già un po' più complicato quando fate la pubblicazione della scena che tra l'altro vedete che a me è già un po' lentino e Maria Messere prima ha detto che lei quando pubblica una scena è molto lenta e qui dipende dalla connessione di rete e da tutta una serie di fattori e da quanto è complicata la scena ovviamente questa è una scena un pochino complessa quindi bisogna aspettare che la percentuale arrivi al 100% quindi pazienza infinita è carina questa scena qua comunque vedete che è anche realistica Sì l'avevamo questa vista con Maria perché c'è tutta la parte c'è una specie di molo è veramente carina Sì 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 Ok 100% Ok vi fa vedere la scena è stata pubblicata però vedete che qui c'è un XVA e PV3 che però secondo me non è ancora la scena vera e propria vedete che ha dato un codice SINS DTY 788N allora per cambiare la scena basta andare a fare il CTRL C di questo indirizzo di questa scena guardate che carina questa scena e poi adesso non lo faccio perché se no ve la cambierei a tutte voi quindi non è non è bello comunque basta qui andare a fare barra e poi scrivere SIN e poi fare CTRL V e si mette la scena corrente cioè quella che si vuole cambiare volendo poter anche farvelo ma è brutto che poi magari me lo perdono ma lo fate voi con le vostre scena praticamente adesso cliccando sull'invio verremmo tutti quanti trasportati teletrasportati in quest'altra scena ecco ve lo lascio come esercizio di fare di rovinarvi le proprie le vostre stanze in questo modo in realtà dico rovinare ma potenzialmente è anche una cosa molto molto intelligente perché uno potrebbe fare una sorta di viaggio senza abbandonare mai la propria stanza cioè nella stanza man mano l'insegnante o comunque il gestore della stanza man mano incolla oppure sceglie delle scene e quindi fa viaggiare senza muoversi le persone quindi è un concetto anche molto molto interessante vedo che c'è qualche commentino che non riuscirò a mai vedere cosa dicono nei commenti qualcuno che ci complichiamo la vita a muoversi senza viaggiare invece no perché se effettivamente con i ragazzi vuoi farli passare da un ambiente ad un altro magari si vuole fare una visita di diverse scene che possono riguardare i tempi greci e quindi fargli vedere un tour in escurso se è conveniente è comodo invece sì io trovo comodissimo anche il fatto che così non si perde nessuno perché sono lì esatto non devi aspettare che stanno entrando che c'è chi non entra chi rimane in lobby cioè trascini tutti nel tour sì adesso poi bisogna fare una sperimentazione per vedere come effettivamente funziona ma le poche volte che l'ho provato io ha funzionato bene quindi poche volte intendo soprattutto con un po' di persone perché è quello poi il problema allora detto questo poi magari se Giovanna e Maria appunto vogliono fare dell'osservazione finale io voglio solo dire come tutti tutti i moduli che abbiamo fatto quest'anno questa parte qua forse è stata un po' più noiosa perché vi abbiamo parlato noi insomma di concettualmente di quello che è Spoke insomma di quello che si può fare abbiamo fatto vedere le basi insomma che sono le ABC di Spoke la settimana prossima in realtà vorremmo farvi vedere qualche cosa di uso didattico proprio delle scene Spoke quindi in particolare il MediaFrame e Waypoint che questo Giovanna ve l'ha già accennato perché l'idea è quello che vuoi ma questo in realtà il compito che già avevamo dato il mese scorso che era quello di allora che era quello di creare appunto una stanza hubs didattica può essere fatta e ho dato come scadenza metà dicembre ma al limite lo allunghiamo se lo ritenete potete fare il compito che include sia la pillola precedente insomma il modulo precedente di Mozilla Hubs quindi fatto anche senza Spoke oppure fatto con Spoke se vi sentite abbastanza in gamba da provarci però la nostra idea era proprio quello di darvi un po' gli strumenti poi scegliete voi farlo in Spoke una stanza del genere è più preciso nel senso che si possono mettere le cose con meno danno insomma cioè con meno fatica però c'è anche delle persone che pensano che si trovano meglio invece con le stanze senza scena quindi è molto libero il modo in cui voi potete fare l'esercizio detto questo poi lascio la parola a Giovanna e Maria comunque credo che le stanze insomma le scene migliori probabilmente ci faremo anche un piccolo giro turistico a un certo punto se poi avete le scene faremo proprio questo giro turistico che abbiamo detto prima magari senza zoom cioè proprio solo girandosi dentro quindi lascio il microfono alle colleghe salve noi abbiamo finito se non ci sono domande sarebbero anche le 22 e 21 possiamo anche salutarci sì va bene se poi i colleghi hanno qualcosa da chiederci noi proviamo a rispondere beh intanto si hanno gradito questa soprattutto quelli che non hanno mai visto Spock ma anche gli altri che magari avevano dei dubbi se vogliono solo scrivere in chat un piccolo commento se gli è sembrato qualcuno si vuole chiedere qualcosa mi sono perso un pezzo quindi quale si apri magari il microfono è meglio se lo dice a voce allora sta chiedendo se può colorare il pavimento ma credo che non si possa fare no le meshe si modificano in Blender poi anche gli oggetti che tu praticamente crei in Blender li puoi anche importare Spock questo lo faremo vedere la prossima volta come si fa a passare un modello da Blender lo puoi passare a Sketchfab oppure direttamente da Blender lo puoi passare Spock non so se tu già utilizzi Blender oppure no allora corre in 5 la chiesa sono esperta di Blender ma allora noi vediamo se riusciamo a colorarlo senza passare da Blender ma al limite se se non si può colorarlo se non ce la facciamo a colorarlo e se tu hai bisogno di fare questa cosa qua cerchiamo anche di aiutarti insomma no no chiedevo ecco se qualcuno appunto volesse mettere un pavimento un parquet no se c'era appunto la possibilità di testurizzarlo senza usare Blender o per forza si deve entrare in Blender ecco era questo diciamo che adesso secondo me ho il sospetto che si possa fare ma supponendo di essere pessimisti che non lasci fare la texturizzazione del pavimento basterebbe mettere una foto sull'immagine un'immagine e avresti ottenuto esattamente lo stesso effetto ah ok capito giusto Giovanna cosa ne pensi sì sì anche se è difficile posizionare poi queste immagini all'interno del pavimento se non hai a meno che non utilizzi il frame effettivamente se si può testurizzare io sinceramente non no ma la domanda è molto interessante ed è una cosa che probabilmente me la sono chiesto anch'io quando facevo quando imparavo Spoke poi dopo non mi sono poi molto impegnato quindi vale la pena effettivamente questa non è una cosa che noi abbiamo ancora esaminato ah ecco ok no infatti mi chiedevo questa cosa qui perché ho detto appunto però se io guardo tra le proprietà Sal non lo trovi vero? no no vabbè lo cerchiamo al limite vediamo comunque il fatto di tu quando hai visto prima che c'erano le cose che sfavillavano sì ecco questa è una cosa che succede anche in open sim in tutti i modi sì 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 è vero quando si sovrappongono due parti succede sta cosa qua esattamente ma anche su pianeta segreto funzionava così quando sovrapponevi le texture sfarfallava tutto praticamente quindi nel caso che poi la soluzione sia quella di sovrapporre una texture bisogna poi fare solo attenzione a non mettere esattamente allineata uguale il pavimento ma un filo diciamo un centimetro più su no no anche perché ho chiesto perché appunto quelli che creano magari anche su Sketchfab no su quei programmi li comunque mettono delle texture alcune quindi il modo ci dovrebbe essere per importarle ma importarle le importi nel senso che se tu prendi da da Blender sì da Blender o da Sketchfab arrivano le texture abbiamo visto prima no il problema è se tu vuoi prendere anche solo banalmente quelle quelle scale che danno loro e mettercene tu una texture in quel momento che uno potrebbe anche pensarci insomma potrebbe essere una cosa interessante se non si può fare io magari la chiedo anche sul gruppo di Mozilla Hubs internazionale dove non sempre rispondono qualcosa di interessante però qualcuno magari risponde ecco cioè non posso garantire però a volte ci proviamo a volte succede se abbiamo delle piccole sorprese ad esempio noi abbiamo trovato il media frame che vi spiegherà poi Giovanna la prossima settimana essere una cosa assolutamente importantissima perché permette proprio di posizionare delle immagini senza impazzire no? ah sì quella domanda che ti feci io lì del museo e questo sì perché quando abbiamo utilizzato in particolar modo io e Maria quando abbiamo utilizzato in estate Hubs abbiamo creato una sorta di museo sull'Etna e posizionare una serie di diapositive che abbiamo creato per l'occasione non è stata una cosa assolutamente facile cioè posizionare gli oggetti all'interno di Spock già è complesso ma si può fare posizionare gli oggetti all'interno invece di Hubs è molto molto complesso avere questi frame ti facilitano moltissimo e ti danno anche la possibilità di avere una sorta di contenitore che ti consente di mettere togliere continuamente delle cose quindi diventa una sorta di museo sempre in divenire sempre dinamico che è confacente allo scopo delle attività che si devono svolgere con i ragazzi quindi è appetibile questa cosa così come ci siamo accorti che comunque stanno facendo delle modifiche continue per migliorare sempre di più il prodotto c'è Maria Messere che diceva che il museo senza frame è morta praticamente sì 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 è vero va bene allora siamo attorno all'ora e dieci ora e un quarto che è la durata ideale siamo a 28 non te lo voglio dire ma siamo a 28 quindi io direi termino la registrazione e poi la pubblico appena è pronta quindi anche per quelli che non hanno potuto esserci o che magari sono arrivati in ritardo ringrazio ancora tutti per la partecipazione per l'interesse spero di non essere stati nessuno troppo noiosi in questa spiegazione e ricordate che questo è solo l'inizio quindi la prossima volta faremo oppure anche sul gruppo Facebook insomma ci sarà qualche provocazione credo quindi state in allerta buonanotte a tutti buonanotte buonanotte